Buonasera, benvenuti 8 e mezzo, buonasera, bentornata Brunella Bolloli, giornalista di Libero, buonasera Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, buonasera Riccardo Maggi, segretario di Più Europa e rappresentante della lista Stati Uniti d'Europa e buonasera, benvenuto e bentornato Fabrizio Barca, economista e coordinatore del forum Disuguaglianze e Diversità. Allora mancano 5 giorni alle elezioni europee e la propaganda politica tira in ballo anche il presidente Mattarella, subito dopo la pubblicità. Marco Travaglio, mancano 5 giorni alle elezioni europee e le destre alzano il tiro ogni giorno di più. Abbiamo visto che il leghista Borghi ha chiesto le dimissioni del presidente della Repubblica Mattarella, accusato di non tutelare la sovranità della nazione Italia. Che cosa vuol dire attaccare il capo dello Stato in questo momento a pochi giorni dal voto? Vuol dire sgomitare un po' per cercare uno spazio politico che la Lega ha perso perché ha tagliato completamente le sue radici. Non c'è più la Lega delle origini, quindi adesso mandano avanti i Borghi, insomma è il meno credibile tra i poco credibili che ha la Lega e così appena parla poi può essere smentito, ritoccato, smorzato dagli altri così per cercare di raccattare qualcosa, caso mai non bastasse il segnale di vannacci. Dopodiché le frasi di Borghi non hanno nessuna conseguenza, quindi non ne farei una tragedia. I Presidenti della Repubblica non si dimettono perché Borghi gli chiede di dimettersi. I Presidenti della Repubblica se ne vanno se c'è un impeachment, cioè ci sono delle procedure molto precise, non credo proprio che sia aria. È semplicemente campagna elettorale di bassa Lega per cercare di fregare qualche voto alla Meloni che si è molto schiacciata sull'establishment europeo. E ci si è schiacciata anche la Lega perché non dimentichiamo che il Ministro dell'Economia, cioè il Ministro più importante del governo italiano, si chiama Giorgetti, che è un leghista e insieme a Giorgetta ha firmato il patto opacco di stabilità che è l'apoteosi dell'austerità, del ritorno all'austerità, è quel pacco che porterà l'Italia ogni anno a partire da meno 13 miliardi. Quindi, voglio dire, hanno già fatto tutto per tagliare le loro radici, non sarà certamente una sparata di borghi a far dimenticare quello che hanno fatto. Poi magari c'è qualcuno che se lo dimentica, intendiamoci, loro puntano a quello. Ma insomma, mi sembra un po' tardi per recuperare lo spirito garibaldino delle origini. Sicuramente per quello è tardi, però Riccardo Maggi, sembra quasi che in questa campagna elettorale sia consentito tutto ai politici, anche oltrepassare tanti limiti. Intanto le cose vengono dette, anche se poi borghi conta niente, o poco, conti poco, tanto non è importante. La Meloni, tra l'altro, stasera ha detto che è bene, ha fatto Salvini a chiarire, che insomma la Lega non chiede le dimissioni di Mattarella. Diciamo anche lì il minimo. La Meloni ha parlato stasera, ci ha messo anche lei un bel po'. Però intanto che effetto hanno tutte queste sparate su un elettorato che intanto è già molto poco motivato per andare a votare per queste europee? Lei ha parlato di attacco eversivo nei confronti di Mattarella. Ma è eversivo chiedere la dimissione di Mattarella o è eversivo attaccare l'Europa? Ha indubbiamente un sapore eversivo attaccare il presidente Mattarella il giorno della festa della Repubblica e non criticare quello che ha detto, chiederne le dimissioni perché semplicemente ha ribadito quello che c'è scritto nella Costituzione, ovvero che la sovranità nazionale si completa e si rafforza con la sovranità europea, che è quello che avevano concepito i nostri padri costituenti. Luigi Enaudi, primo presidente della Repubblica e tra i primi a parlare di Stati Uniti d'Europa, aveva detto Gli Stati nazionali sono polvere senza sostanza. Il problema del futuro non è tra indipendenza degli Stati europei e Unione degli Stati europei, ma tra Unione e disgregazione, implosione degli Stati. Oggi, ai confini dell'Unione europea, appena fuori, abbiamo centinaia di migliaia di cittadini, ad esempio georgiani, che manifestano contro una legge filo-russa approvata dal loro Parlamento, liberticida, tenendo in pugno la bandiera europea. Ma sembra che alla maggioranza della popolazione dell'elettorato non importi nulla di questo. È esattamente questo il punto. I cittadini georgiani capiscono il profondo significato di quella bandiera. Libertà, democrazia, Stato di diritto. Borghi, Salvini e compagni la vogliono togliere dai palazzi istituzionali. Siamo a un bivio. È il bivio delle prossime elezioni europee. O l'Europa si riforma e si rilancia, oppure prevarrà il nazionalismo, e cioè la tragedia che già l'Europa ha vissuto. Brunella Bolloli, è così che vengono percepite queste elezioni? La Lega continua a mettere in difficoltà la Meloni? Ho sentito Travaglio dire che mandano avanti Borghi. In realtà Borghi si manda avanti da solo, cioè nel senso che è un esponente della Lega, non ha incarecchi di governo, non mi pare. Insomma, è sempre stato nella Lega una voce molto critica e diciamo un po' anche un cane sciolto. Questo non vuol dire prendere distanze da Borghi, perché insomma fondamentalmente fa parte della Lega, quindi Salvini ha parlato. Però, ad esempio, oggi qualcuno chiedeva le divisioni di Salvini per le parole di Borghi e invece magari Salvini è il leader della Lega, ma non è che deve dimettersi se un suo senatore dice qualcosa contro il Presidente della Repubblica. Poi c'è il discorso che insomma si parla di eversione, anche l'On. Maggio ha parlato di eversione, però ricordiamo che il 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica, ad esempio il Partito Democratico ha organizzato una contramanifestazione. Questo sì che è qualcosa che va contro, diciamo, la festa della Repubblica, che in qualche modo può essere visto come uno sgarbo istituzionale a quelli che sono i festeggiamenti, a quella che è appunto la festa della nostra Repubblica. Poi, ovviamente, Mattarella, per carità, non si tocca... Scusa, solo per chiarire, era una manifestazione elettorale, non era una contramanifestazione. Però il 2 giugno può suonare anche un po' come uno sgarbo istituzionale, comunque è una data importante per il Paese. Poi, se parliamo, ad esempio, dei Cinque Stelle, ricordiamo quando erano loro a chiedere l'impeachment del presidente Mattarella. Ovviamente, magari esponenti che adesso non ci sono più nei Cinque Stelle, penso a Di Maio e a Di Battista, ma insomma, allora... Vabbè, quindi... Sì, sì, ma non... E poi, ecco, c'è da dire che Mattarella, per carità, è Mattarella. Però, se si torcia un cappello a Mattarella, assolutamente, vi dipendi o cose di questo tipo. Sulla Meloni, quante volte sentiamo dire che è una pesciarola, che è una bastarda, che, insomma, tutti gli insulti che ci sono. Quindi, è vero, uno è un presidente della Repubblica e uno è un presidente del Consiglio, ma, insomma, non è che è stato insultato. Sono state chieste le dimissioni con una provocazione che poi è rientrata con la nota di Salvini e della... Allora, Fabrizio Barca, la vedo un po'... Non so se è più stupito, inquieto, cos'è che non la convince di questo ragionamento. Le chiedo, siccome lei sta girando l'Italia da molti mesi per cercare di spiegare che ci vuole un'Europa, non meno Europa, come dicono le destre, ma più Europa e un'Europa migliore, diciamo. Giorgio Meloni, peraltro, dice che è un referendum tra chi vuole mantenere l'Europa ideologica e tecnocratica e chi, come lei, Meloni, invece, non dimentica le radici e vuole un'Europa che faccia meno e meglio. Allora, che cosa bisognerebbe fare e cosa non la convinceva del ragionamento di Bolloli? Allora, uno, mi farebbe piacere capire qual è l'idea della Presidente del Consiglio sull'Europa, perché meno e meglio non mi sembra che sia particolarmente indicativo. Non c'è discussione sull'Europa, non ce n'è alcuna e quello che ho raccolto partiva dal viaggio che abbiamo fatto per raccontare tredici idee di un libro. Abbiamo incontrato settemila persone in 102 incontri, persone particolari, persone che stanno sulla frontiera del cambiamento produttivo, del tentativo di fare esperimenti sociali in un paese che tengono, sono tra quelli migliaia che reggono il paese e anche lì ho trovato indifferenza, anche lì ho trovato disagio e una voglia enorme di capire per cosa stiamo votando. Da questo punto di vista, dato che non si butta niente, perché io sono un praticone, io non butterei neanche la polemica, per questo stavo con la bocca aperta, perché mi approfitterei. Ho visto che qualche giornale già l'ha detto, ma in questa sede è bene ricordarlo, l'articolo 11 della Costituzione che è stato scritto apposta dai nostri costituenti che avevano in testa l'Europa e le Nazioni Unite. In quell'articolo hanno scritto che la sovranità del paese è limitabile, uno. Cioè l'ha scritto, grazie se Mattarella avrebbe detto una frase del genere se non sapesse di avere una base costituzionale, ma hanno detto un'altra cosa che ci porta su quale Europa, perché non basta dire Europa, Europa, Europa. Lì ci sta scritto che la limitazione è possibile se essa è necessaria per la pace e la giustizia delle nazioni. Allora, la discriminante vera è se i candidati e le candidate che vanno in Europa, che noi votiamo che sono fondamentali al di là del partito a cui appartengono e che in questo momento alle persone interessano, devo dire, girando l'Italia abbastanza poco, interessano le persone, vanno lì a dire delle cose concrete e a dare battaglie che facciano più pace e più giustizia. Allora lì comincio a capire qualcosa e poi possiamo, perché anch'io sono d'accordo che c'è un bilico, che l'Europa è in bilico, non sono sicurissimo che abbiamo in testa tutti lo stesso bilico, se vogliamo poi lo... Tutti lo stesso bilico e tra l'altro ricordo che per Don Zen, il suo forum Disuguaglianza e Diversità ha appunto pubblicato questo libro Quale Europa? Per capire, discutere e scegliere, no? Un esempio? Uno, uno solo. Il bilico, come lo vedono molte persone che ho incontrato, è molto semplice. L'Europa, fino adesso, rispetto a Stati Uniti e Cina, ha costruito un modello di utilizzo dei big data, questa roba che sta... la conoscenza, che è il tema di questo secolo, che è alternativo sia al modello statalista cinese che ha il modello corporate center, cioè centrato sull'impresa. Tutti i dati si le becca a Musk, tutti i dati si le becca lo Stato. L'Europa, disperatamente, sta cercando di costruire una roba che ha al centro i diritti delle persone. Noi siamo critici di alcune cose che stanno scritte, nel libro ci stanno delle idee precise, è lì che io vorrei vedere le proposte. Siete pronti a costruire delle regole sull'artificial intelligence migliori di quelle che consentano ai 10.000 pazienti, per dirla proprio concreta visto che la salute è piuttosto importante per tutti, di poter condividere i dati sulla loro salute ma di far sì che non vadano nelle mani di una grande corporation pharma che poi mi vende quel farmaco a prezzi tali che mi fa saltare il sistema sanitario nazionale. Siete pronti voi candidati che andate lì a fare una battaglia perché la conoscenza sia condivisa ma non proprietaria? Lei mi sta dicendo delle cose che penso che facessimo per la maggioranza dei candidati un esame su quanto sanno di Europa delle competenze non sarebbero probabilmente temo in grado di rispondere. Marco Travaglio diceva Fabrizio Barca che appunto per avere un'Europa che abbia al centro pace e giustizia bisogna avere più Europa un'Europa migliore non è che stiamo discutendo di questo i partiti stiano facendo capire cosa vogliono davvero o tu hai capito per esempio cosa vuole Giorgia Meloni davvero dall'Europa? No avevo sentito dire che era finita la pacchia per l'Europa poi abbiamo visto che era finita per noi con il patto di stabilità e con l'economia di guerra ma se ci sono tanti euroscettici e ci sono le destre in grande ascesa questo è dovuto all'attuale assetto dell'Europa e alle attuali leader dell'Europa è dovuto alle politiche della von der Leyen da quando è scoppiata la guerra in Ucraina è dovuto avete visto lo spot sul sito della von der Leyen sembra Struntruppen è imbarazzante è imbarazzante che l'Europa nata per evitare che la seconda guerra mondiale si ripetesse perché ne avevamo avute due nella prima metà del secolo e sta lavorando perché si arrivi alla terza c'è un'Europa piena di diseguaglianze e l'establishment europeo propone che cosa? un nuovo recovery fund per comprare più armi anziché per livellare e per riequilibrare le diseguaglianze e poi si meravigliano e si stupiscono se la gente si butta a destra ma i colpevoli dell'euroscetticismo si chiamano von der Leyen Borrell Macron Scholz con questi deliri sulla guerra permanente alla Russia e alla Cina con questa identificazione che ormai non consente più nessun distinguo tra Unione Europea e Nato ma l'Unione Europea sarà un'altra cosa rispetto alla Nato o no? e poi con questo doppio pesismo per cui gli euroscettici anche se sono vagamente fascistoidi e nazistoidi ci piacciono se stanno dalla nostra parte cioè dalla parte della Nato e non ci piacciono se stanno dall'altra io ricordo l'uso che è stato fatto non di Marine Le Pen di Jean-Marie Le Pen anche da attuali grandi europeisti come Emma Bonino che nel 99 portò i sei radicali eletti all'insegna dell'Europa ovviamente a fare gruppo insieme a Jean-Marie Le Pen e al Front National ora il Front National di Jean-Marie Le Pen al confronto di quello che è la figlia di Le Pen era non ha studiato bene questo passaggio Travaglio e poi fu sciolto quel gruppo lo chiamavano il gruppo Le Pen Bonino Travaglio era un gruppo tecnico per contestare il regolamento del Parlamento Europeo ma non abbiamo tempo andiamo sulle questioni più politiche non regolamentari che ci dividono e quello è uno dei tanti esempi della spregiudicatezza degli europeisti che hanno sempre usato gli anti-europeisti quando gli facevano comodo pensiamo soltanto alla condanna di due paesi che violano lo Stato di diritto come la Polo ti lasciamo finire finisci il Travaglio pensiamo alle procedure di infrazione aperte contro Polonia e Ungheria per violazioni dello Stato di diritto poi la Polonia si è schierata mani e piedi con la Nato e quindi l'hanno perdonata e l'Ungheria no perché ha mantenuto dei distinguo è questa roba qua che sta portando molto vento nelle vele degli euroscettici degli anti-europeisti sono gli europeisti che stanno scavando la fossa all'Europa mentre guardano dall'altra parte si guardassero allo specchio sono gli europeisti che stanno afforzando l'Europa e quando Travaglio dice l'attuale assetto e la guerra in Ucraina che stanno rendendo meno credibile l'Unione Europea ha attaccato Macron von der Leyen lei e i vostri europarlamentari faranno parte del gruppo di Macron del presidente francese non solo e noi speriamo che il gruppo di Renew che raccoglie ALDE cioè i liberal democratici come noi il PDE ed altre famiglie sia il terzo gruppo nel Parlamento Europeo e l'apporto che può dare l'Italia da questo punto di vista è fondamentale ma mi faccia dire è certo che voglio rispondere ovviamente il minestrone di argomentazioni che ha fatto Travaglio e che è esattamente funzionale poi a portare consenso alle forze anti-europee nasconde una cosa il problema non sono gli europeisti e mi faccia parlare Travaglio lei è qui tutte le sere io solo stavolta e chissà quando ci tornerò no io sono qui una volta la settimana il problema è l'Europa politica che manca e che è mancata ed è esattamente così che vogliono lasciare le cose i nazionalisti e i sovranisti Meloni tra i primi punti del programma a mantenere il diritto di veto nel Consiglio Europeo non vuole che ci siano decisioni a maggioranza non vuole che ci sia un Parlamento Europeo che funzioni come tutti i Parlamenti democratici cioè che possa decidere è una falsità questo gioco della sovranità nazionale ma scusate e l'invio il riarmo l'invio di nuove armi se noi avessimo avuto avessimo perso meno tempo e avessimo avuto un esercito europeo che presuppone una politica estera europea perché non è che il capo di Stato Maggiore dell'esercito europeo si sveglia la mattina e decide lui che cosa faccia con l'esercito probabilmente quasi sicuramente nel febbraio del 2022 Putin non avrebbe pensato che fosse possibile invadere militarmente uno Stato sovrano questa è mancanza di politica tutte le questioni relative agli acquisti delle armi quindi si va avanti così adesso si va avanti così allora intanto quello che manca sempre dai ragionamenti di travaglio è il punto di vista di un popolo che viene bombardato quotidianamente io prima di sentire appelli alla pace da parte di chi non è un capo spirituale ma si candida e mette il nome pace nel proprio simbolo vorrei sapere una strategia per arrivare a costruire la pace che si costruisce sullo Stato di diritto sul diritto internazionale e sulla democrazia non si costruisce sulla resa e lo sterminio degli aggrediti Fabrizio Barca allora io la metterei così l'unico punto su cui sono in lontananza da travaglio è che non è europeisti contro anti-europeisti ci sono due visioni d'Europa per un motivo molto banale perché dopo la vicenda della Gran Bretagna chi è che è anti-europeista dopo il disastro di quel paese che sta affondando quindi è evidente che tutti sono il tema è quale Europa allora un esempio per partire dalla difesa io personalmente personalmente il forum non ha un'opinione ce l'ho io credo che il coordinamento delle difese abbia senso ovviamente solo se c'è un coordinamento delle politiche estere piccolo dettaglio piccolissimo dettaglio discrimine nel rapporto letta quindi un rapporto di una figura moderata non sospettabile di anti-europeismo leggo che l'attuale assetto della difesa spende 40% di troppo cioè c'è un'inefficienza del 40% quindi io crederò a chi chiede l'unificazione delle difese solo quando mi dirà che è pronto a farla riducendo del 40% le spese complessive della difesa perché se non leggo questo a me viene il dubbio che chi oggi propone alla Van der Leyen in quel filmato e lì sono con travaglia al 100% fa paura fa davvero paura che la propongono perché hanno in testa uno strano sviluppo per l'Europa che assomiglia a quello di ahimè gli anni che abbiamo abbandonato alle spalle cioè uno sviluppo tirato dall'industria della difesa alternativo perché poi ogni volta che diciamo una cosa negativa abbiamo il dovere di dire e allora quando sarebbe possibile fare debito pubblico europeo sull'istiam d'accordo andare sui mercati se and'accordo aumentare le risorse proprie ma per fare ricerca per fare istruzione noi abbiamo un problema serissimo che leggo declinato malissimo leggo malissimo che è questa altra cosa bellica con questo parlare bellico dell'attuale governo dell'Europa lo devo dire perché è così che è un parlare bellico dobbiamo intercettare e fare nostre le catene di approvvigionamento delle materie strategiche a me questo pare un discorso neocoloniale che parla al Sud America e all'Africa come parlavamo cento anni fa cioè l'Europa peggiore quella che i nostri fondatori hanno cercato di superare io vorrei leggere dato che è possibile che ci sono imprese avanzate in Svezia e altrove che stanno cercando di fare batteria senza il litio senza il cobalto che l'Europa mette una quantità di denaro mostruosa allevata alla difesa per accelerare il passaggio a delle batterie che non hanno bisogno di materie strategiche io li vedo parlare solo di materie strategiche cioè di accaparramento di neocolonialismo e la cosa che dicevo prima sulla conoscenza è la stessa cosa io leggo in alcuni rapporti che si parla del fatto che l'Europa dovrebbe competere costruendo anche lei i grandi corporation e leggo che fanno farmaci cioè di quest'epoca dopo che abbiamo pagato i vaccini grazie a una cattiva gestione complessiva dell'Europa che sicuramente ha fatto il coordinamento ma che ci ha fatto pagare dieci volte una dose di vaccino quanto costava leggo ancora che dobbiamo dare più potere alle big fans altrimenti saremo ancora aspettando il vaccino questa è Europa le persone non piace per questo non vanno a votare non so se è chiaro Magi io penso semplicemente che l'Europa la cambia chi l'ama e chi comprende che è una costruzione imperfetta perché ovviamente le democrazie funzionano in maniera imperfetta ed è necessaria una continua composizione un continuo compromesso ma siamo arrivati al punto di fare un salto nell'integrazione europea altrimenti nessuno dei 27 staterelli da solo riuscirà a garantire più pace sviluppo ricerca salute accompagnamento del sistema produttivo per la transizione energetica politiche climatiche politiche ambientali decenti politiche di bilancio e politiche fiscali che accompagnino con investimenti che solo l'Europa potrà fare quello che diceva Parca ma questo è un punto politico cioè noi lo possiamo leggere in paper di Letta o in quello di Draghi ma se non diventa un oggetto un obiettivo politico ed è questo il tentativo che stiamo portando avanti noi semplicemente non se ne parano la parola Travaglio e poi Bolloli ma no sento ho sentito che io non penso al popolo ucraino io penso solo al popolo ucraino che abbiamo condannato a un futuro di guerra fino a esaurimento truppe cioè fino all'ultimo ucraino come disse qui lungimirante Lucio Caracciolo tanti mesi fa senza proporgli nessun tipo di alternativa quando l'Europa ripeto è nata per impedire che le guerre mondiali si ripetessero quindi sarebbe toccato all'Europa preparare un tavolo di negoziato non di resa la resa la fa chi non ha più nulla da perdere l'Ucraina controlla ancora i quattro quinti del suo territorio è continuando la guerra che rischia di perdere anche i quattro quinti che ancora controlla oltre alle vittime che continuano a morire mentre noi stiamo parlando l'Europa è mancata completamente nella sua vocazione di motore di pace perché si è identificata con la Nato che è un'altra cosa che è un'altra cosa altrimenti non si vede per quale motivo nata la Nato sia nata anche l'Unione Europea perché non bastava la Nato l'Unione Europea è un'altra cosa basta leggere gli atti e i documenti e gli scritti dei padri fondatori dell'Europa per sapere benissimo che non erano dei pericolosi comunisti e nemmeno tanto meno dei figli dei fiori che volevano mettere i fiori nei loro cannoni erano semplicemente delle persone lucide che cosa intende il Consiglio Europeo dove si riuniscono i capi di Stato e di Governo l'alto rappresentante per la politica estera il Presidente della Commissione perché il problema è proprio quello è proprio continuare a parlare di Europa in questo modo che è truffaldino nei confronti dei cittadini se non si affronta il tema della mancanza politica che è riforma istituzionale ma è anche un'idea da portare avanti è un obiettivo politico a cui si accompagna una riforma altrimenti lei fa il gioco di Meloni nega che sia così ma lei fa esattamente il gioco delle destre europee dei nazionalisti io dico quello che penso e non sono mai stato in un gruppo e questo è il mio giudizio politico io non faccio il gioco di nessuno io dico cosa intende quando dice Europa qual è questa Europa ogni volta che Travaglio ogni volta che uno dei rappresentanti delle varie istituzioni europee che lei ha enumerato apre bocca parlando di economia di guerra facendosi vedere in marcia per una turbo economia militare e promettendo spese inaudite per il riarmo europeo mentre l'Europa soffre di diseguaglianze sto affermando che questi signori sono i peggiori nemici dell'Europa che credono di difendere e porteranno molta acqua al mulino dei nemici dell'Europa perché lo stanno già facendo solo per chiarire perché alla fine decide il consiglio europeo di cui fanno parte i primi ministri i presidenti del consiglio di tutti i 27 paesi e ce ne sono di destra ce ne sono di centro ce ne sono di sinistra quindi alla fine ma infatti il problema dell'Europa allora a casa proprio ognuno ognuno fa finta di non essere mai stato a Bruxelles a co-decidere con tutti gli altri perché questa è l'ipocrisia peggiore che continua ad andare avanti da decenni questo deve riferirlo ai governi e ai partiti io noto semplicemente che sulle questioni cruciali primum vivere terza guerra mondiale e austerità il gruppo socialista europeo e il gruppo popolare europeo e il gruppo liberal democratico europeo la pensano esattamente allo stesso modo e votano tutti allo stesso modo e come esattamente le destre europee e pure la Meloni esattamente la stessa cosa e pure la Meloni ha la stessa posizione di Elislein sulla guerra e sulla austerità perché Gentiloni ha la stessa posizione questo è il paradosso di queste elezioni noi ci stiamo inventando delle figurine che esiste da decenni derby che non esiste nei fatti l'indiguità che in Europa si dice una cosa poi si torna nel proprio stato e si dice il contrario perché elettoralmente è più comodo così lo vediamo da decenni e rapido riprendiamo il filo noi stiamo per votare per il Parlamento europeo che è una delle tre istituzioni dell'Europa la più democratica che ha un peso che vorremmo aumentato ma al momento non lo è tanto è vero che durante la pandemia vorrei ricordare il Parlamento europeo ha avuto una posizione diversa da quella della commissione quando India e Sudafrica hanno chiesto di poter accedere ai vaccini il Parlamento ha detto di sì e la van der Leyen che ha detto di no e avevano detto di sì la Cina la Russia e gli Stati Uniti questo ci come dire ok quindi il Parlamento europeo è la punta avanzata è un luogo dove si discute è un luogo di confronto dove vale la pena di votare noi non avremmo mi faccio andare su una questione che non abbiamo toccato per niente noi non avremmo oggi in Italia un confronto un'evoluzione sul tema del cambiamento climatico se l'Europa non ci fosse stata questo mettiamocelo in testa la prego perché è vero questo ma è anche vero che è l'Europa che a partire dal 20 ha frenato con il freno a mano sul cambiamento climatico perché si è spostata completamente ha bloccato in Parlamento europeo un provvedimento fondamentale che riguardava la biodiversità si è affrettata di corsa a modificare perché non aveva saputo dialogare con il popolo degli agricoltori si è affrettata di corsa a modificare un punto sulla PAC cioè è un'Europa non soltanto travaglio è anche un'Europa dirigista in questo la Meloni va detto perché se no non capiamo ma coglie un punto ma va detto che è questo ma il punto della Meloni è semplicemente quello di dire che le modalità di governo sono modalità percepite dai popoli e dal nostro popolo lontane perché non è ascoltato e bisognerebbe però cominciare con l'abolire l'unanimità perché se no non si può decidere però adesso è una cosa molto complicata perché io devo dare i 30 secondi a Maggi lei convinca un elettrice un elettore che non vogliono andare a votare per l'europea non fatevi fregare restando a casa l'8 e 9 giugno prossimi non c'è un futuro possibile di libertà di democrazia di pace di stato di diritto di benessere se la prossima legislatura europea non sarà una legislatura costituente cioè che sia in grado di riformare profondamente le istituzioni europee rendendole più democratiche e più sovrane la sovranità nazionale non è in contrasto come vi raccontano con quella europea le destre italiane ed europee vogliono lasciare tutto come è cambiamolo allora 30 secondi perfetti pochi secondi di pubblicità poi torniamo siamo in chiusura grazie Brunella Bollolli ricordo il tuo nuovo nuovo libro per Baldini e Castoldi che si intitola Il Verminaio l'inchiesta sui dossier dell'antimafia complimenti grazie Marco Travaglio grazie onorevole Maggi e in bocca al lupo allora per la sua lista Stati Uniti d'Europa Stati Uniti d'Europa grazie Fabrizio Barca e ricordo il libro per Donzelli Quale Europa capire, discutere, scegliere che è stato promosso dal suo forum disuguaglianza e diversità e adesso state con noi per chi vi lascio a Corrado Formilli che eccezionalmente va in onda il lunedì arrivederci noi domani a Corrado Formilli grazie a tutti Grazie a tutti.